Oggi avviene quello che non è stato possibile un mese fa, quando poi tra l'altro ci fu l'episodio della polemica nata da un'opera che in qualche modo sembrava irridere al mondo turco e quindi abbiamo fatto togliere quell'opera. Ma gli artisti possono ricominciare a vivere, quindi mi sembra che sia un segnale molto positivo. Sgarbi torna in provincia di Arezzo, apre al pubblico la sua mostra a Castiglion Fiorentino e Mille Sgarbi. È una sorta di esposizione autogestita nella quale i mille che noi ci siamo prefigurati di incrociare vengono a far vedere le loro opere a me, che non devo poi giudicarli o promuoverli, devo prendere atto della loro esistenza e delle loro capacità. L'esposizione, promossa dall'Associazione Culturale allo Stato dell'Arte con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, si snoda su più sedie espositive, dando vita ad una delle più grandi mostre di arte diffusa che fa entrare in comunione la storia di Castiglion Fiorentino con i lavori di pittura, scultura, fotografia e grafica digitale degli artisti selezionati. Qui abbiamo dato di fatto che è una città antica con dei musei, importanti musei, con opere importanti, che dialogano con artisti di cui il valore non è ancora riconosciuto. Quindi esiste una storia ed esiste un presente. L'arte è il riferimento per questi artisti e quindi anche soltanto che uno entri in questo museo e quindi per vedere qualcosa che accade oggi si ritrovi davanti ai capolavori del passato serve a dire che in nessun luogo del mondo noi abbiamo una possibilità come questa di avere spazi popolati di artisti e di storia. Per cui mi pare un dato oggettivo. Quindi sostanzialmente animiamo e rianimiamo una città storica e la portiamo alla presenza di artisti del nostro tempo. Le opere proposte sono tutte legate alla stessa tematica e ispirate a quella dimensione spirituale che è lo spazio dell'anima dell'artista. Sarà visitabile il venerdì con orario continuato dalle 10.30 alle 17.30 fino al prossimo 2 di giugno.